Dimelo quale giocatore che ti ha impressionato di più in questi primi giorni? In questi primi giorni Valdifiori, nuovo acquisto, gioca sempre di prima, grande visione di gioco, un grande acquisto secondo me. Cosa ne pensi del mercato del Napoli finora, oltre a Valdifiori? Cosa ti aspetti? Sicuramente ancora all'inizio, abbiamo fatto solo due acquisti, quindi adesso sembra Allan, sicuramente prenderemo un centrale, forse qualcuno ha un po' sedezzato quindi in mercato sarà sicuramente positivo. Allan e Astori sembrano molto vicini, cosa ne pensi? Sono i nomi giusti per il mercato del Napoli? C'è bisogno di qualcun altro? Allan, a me piace molto come giocatore, Astori non sono molto convinto, comunque in difesa penso che ci voglia qualcuno di più, con più esperienza anche in Europa. Fiducia a Mr. Sarri? Sì, molta fiducia. Di tiro da ormai una settimana, cosa pensi? Quali sono le prime impressioni di questo nuovo Napoli? E' un po' di applicazione in più, che l'anno scorso penso che è mancata molto, li vedo che lavorano più sodo e speriamo bene. Ti fidi quindi di Mr. Sarri? E' più di giusta la scelta? Tanto, tanto, tanto giusta, perché lo vedo molto affidabile, che lavora e non pensa solo ad apparire come magari facevano i suoi predecessori. Quindi tra Sarri e Benitez? Dici Sarri. Sarri, 100%, umiltà. I nuovi acquisti, cosa ne pensi? Val di Fiori, adesso sta per arrivare Allan, c'è bisogno di qualcos'altro per il Napoli? Io il vero acquisto che vedo è Reina. Salve. Da dove venite? Brescia. Brescia, tifoso del Napoli? Assolutamente. Quali sono le prime impressioni di questo ritiro? Ti dirò che questa volta mi sono divertito veramente a vedere l'allenamento del Napoli, è veramente allenamento di calcio. Quindi, Mr. Sarri, la scelta giusta finora? Solo il campo, dirà, se è la scelta giusta, però intanto vedo applicazione, vedo schemi, vedo calcio e questo mi rende felice. Poi vedremo. Quindi sei più convinto di Sarri che di Benitez? Benitez mi ha deluso perché è una persona molto intelligente, però troppo integralista. Non aveva calciatori adatti a fare quello che voleva lui, quindi secondo me doveva cambiare. Sarri, molti giocatori che aveva il Napoli, l'anno scorso probabilmente con Sarri renderanno di più. Me lo spero e me lo auguro. Da Mantova. Da Mantova, tifoso del Napoli. Assolutamente sì. Cosa ne pensi questi primi giorni di ritiro? C'è entusiasmo? Abbiamo intervistato i tifosi. Poi l'attesa di vedere il nuovo allenatore Sarri che può promettere un po' di sicurezza. Salve. Da Cisciano, Napoli, Nola. Cosa ne pensa di questi primi giorni di ritiro? Guarda, io sono arrivato un paio di giorni fa, ma speriamo che il Napoli acquisti la sua identità, che fino a ora ha smarrito, e speriamo che va avanti nel futuro. C'è quindi più fiducia in Sarri nel modo di giocare di Sarri rispetto a Benitez, oppure Benitez dava più garanzie? No, gli dobbiamo dare fiducia a Sarri, come l'abbiamo dato a Bianchi con Maradona, perché anche Bianchi veniva da una provinciale. Speriamo che Sarri faccia la fine di Bianchi, cioè ci porti allo scudetto. Tra i acquisti, dopo Aldi Fiori, Reina, c'è qualche nome in particolare che vorrebbe al Napoli. Cosa si aspetta da questo mercato? No, vabbè, aspettiamo sempre il massimo, però c'è un po' ancora da vedere, anche con un buon difensore. Però speriamo che il Napoli, come sta andando, sta andando fin troppo bene. Anche loro sono tifosi del Napoli? Sì, sì, sì. Il capitano. C'è solo un capitano. Marek Hamzik può essere il leader di questa squadra per l'anno prossimo? È il leader della squadra. Il tuo giocatore preferito? Sì, sì. Quindi quest'anno punti molto su Hamzik. Finalmente quest'anno abbiamo il Portiron. Reina. Quindi due leader per questo Napoli, Reina e Hamzik. E poi vediamo davanti Guaini, speriamo che si sveglia, che non sbagli il rigore, che li manda alle stelle. TV Napoli? Non sei molto tifoso del Napoli? Sì. Di chi si aspetta da un autografo? Hamzik. Hamzik. Il tuo giocatore preferito? Sì. Per Forza Napoli? Forza Napoli. Di chi state aspettando l'autografo? Di Hamzik. Hamzik? Può essere il leader di questo Napoli? È certo che è il leader del nostro Napoli. Insieme a Reina, quindi possono essere due giocatori che possono rappresentare il Napoli quest'anno in maniera egregia. È certo che devono rappresentare il Napoli. Speriamo che vingono, che fanno qualcosa. Fiducia per Mr. Sarri dopo l'annata così e così di Benitez? Sì, sì, sì. Cosa ti aspetta da questo Napoli? Qualcosa in più da... Un bel calcio di Sarri come ci ha fatto vedere con l'Empoli. Quindi pensi che questo Napoli possa esprimersi a grandi livelli? Credo quest'anno sì, con Reina in porta che dirige la difesa credo proprio di sì. All'Anne sembra ormai vicino al Napoli. Un voto a questo acquisto? All'Anne, a Stori, quale preferisce? Speriamo un voto da otto, ma speriamo che non sia come il.